E facciamo ora la memoria del battesimo, ricordiamo quando per la prima volta siamo entrati nella grande famiglia di Dio. Riconosciamo con gratitudine il dono ricevuto per rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati fai di splendere in Valentina e Matteo, la veste noziale della Chiesa. Dio Onipotente, origine e fonte della vita, che ci hai rigenerati nell'acqua con la potenza del tuo spirito, ravviva in noi la grazia del battesimo e concedi a Valentina e a Matteo un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgono il dono del matrimonio, nuova via alla loro santificazione per Cristo nostro Signore. come voi, giurano l'amore, non possiamo più muoversi, non possiamo più muoversi, perché vuol dire che ancora in questo mondo ci sono, avvengono dei miracoli, perché i miracoli sono anche nel piedi, Matteo e Valentina sono qua e io vado adesso con la magia. Grazie, grazie, grazie. Matteo, c'ete minuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costruzione, in piena carità e consapevole del significato della popola principale? Sì. Siete disposti seguendo la nuova via del matrimonio alla maglia di un'armi di un'armi di tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere come voi i figli di Dio portando l'armi e a educarvi secondo la legge di Cristo della sua Chiesa? Sì. Sì. La presenza di Dio che ho amato la Chiesa e che io gli ho intattato nella mano destra ed esimilmente il vostro consenso. Il Signore inizia nel complimento del vostro amore, sia sempre voi. Io, Matteo, prendo te Valentina come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di essere di vedere sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amare per amare i giorni della mia vita. Io, Valentina, prendo te Matteo come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di essere di vedere sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e amare i giorni della mia vita. Il Signore Onipotente conferma in quel senso che avete manifestato davanti alla Chiesa che si identifica con il malattia della sua benedizione. L'uomo non separa ciò che Dio conosce tutti i scegliati. Anche di Elesio. Dio Onipotente, oggi ti propizio a questi tuoi figli che a te affidano la loro speranza. Concedi loro i doni della tua grazia perché conservino l'amore e la loro unione e al termine di questa vita terrena entrino nella benedizione eterna per Cristo nostro Signore. e ora cerchiamo di essere da parte del segno e andate a abbracciare anche i vostri. Paggia e Giacomo. 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 Siamo seduti nell'ultimo banco e abbiamo iniziato a guardare il rocifisto qua sopra e abbiamo fatto una chiacchierata singolarmente ma vicino e una volta finito di fare questa chiacchiera abbiamo alzato tutti e due gli occhi al cielo come sapete ieri pioveva e di colpo si è illuminato, è uscito un raggio di sole e è illuminato il raggio di Cristo e è stata una cosa toccata è arrivata anche alla benedizione di Sio Sant'Ità filmata dall'arcivescovo e le monciniere da Postone di Sio Sant'Ità ditemi come si chiama perché è un sospiciale delicolo Sio Sant'Ità Francesco imparte di cuore la benedizione apostolica a Matteo Andrea Ferrara e Valentina dell'Itellino dell'Isante in occasione del matrimonio e invoca sulla nascente famiglia continua effusione di grazie celeste e la materna protezione della Vergine Beata Maria affinché cresca costantemente nella fede e nell'amore e dia sempre testimonianza di autenticità di autentica vita cristiana la parrocchia di San Marco a Milano il 16 maio 2015 danno di cane 11.3.2015 grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.